Secondo tempo, vince l'Atalanta, 3 a 2, comissione per Maggio, il cross morbido in mezzo, deviazione da Mazzone! Il pareggio della Brescia! Il pareggio della Brescia! Non ha colazione, non ha colazione, forse! Mazzone in campo, Mazzone in campo! C'è Mazzone che parte, non lo prendono più! Non lo prendono più, Mazzone sotto i tifosi, sotto i tifosi dell'Atalanta! Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta! E' impazzito! Non lo tengono più, si è sfogato Mazzone! Già, dopo il gol del 2 a 3, si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta! Dopo il 2 a 3, si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta! E adesso va a dedicare a loro il gol del 3 pari! Vediamo Collina, vediamo Collina! Sicuramente o è espulso o ha voluto una cosa del genere! Vediamo cosa fa Collina!